Benvenuti nella cucina di Molino Casillo, dove le ricette sono desideri. Oggi facciamo i grissini, anzi i pan grissini, con la multicereali di Molino Casillo. La ricetta è semplicissima, ha pochi ingredienti. La nostra farina che abbiamo già inserito nella planetaria, inseriamo tutta la nostra acqua, andiamo ad inserire il nostro lievito, eccolo qua, e cominciamo a far girare. Dopo circa un minuto inseriamo il sale e cominciamo a mettere l'olio. E dopo qualche minuto il nostro impasto sta cominciando a staccarsi dalla parete della nostra planetaria. Perfetto, diamo ancora più velocità. Eccolo qui, guarda che bello, è un impasto molto profumato. Perfetto, adesso spolveriamo con un po' di farina. Perfetto, spolveriamo anche dentro, così lo stacchiamo meglio. E lo mettiamo sul tavolo. Andiamo a lavorarlo un po' sul tavolo, così. Dopo aver fatto questa forma a filoncino, spolveriamo anche la nostra teglia, spolveriamo poco poco, così. Perfetto. Andiamo a metterci il nostro filoncino e lo lasciate giusto qualche minuto. Lo schiacciamo un po', basteranno proprio giusto dai 3 ai 5 minuti. Spolveriamo con un altro po' di farina e lo copriamo. Eccolo qua. Lo lasciamo così fino al raddoppio del suo volume. Stai bene? Sì, sta bene. Cominciamo a tagliare i nostri grissini. Adesso siamo pronti per infornare i nostri pan grissini. Abbiamo preriscaldato il forno a 200 gradi, 15 minuti e ci cominciate a dare un occhio. Io vado ad infornare i nostri grissini. Eccoci qua. Facciamo partire. Via! Non ci rimane che aspettare la cottura dei nostri grissini per assaggiarli insieme a voi. Beh, spesso in cucina capita che si rompe qualcosa. In questo caso mi si è rotto proprio un cucchiaio. Vi faccio vedere come usarlo con il mio tocco da maestro. Recupereremo questo cucchiaio rotto per farci qualcosa di interessante. Apro leggermente il forno e inserisco il mio cucchiaio rotto così, da favorire la fuoriuscita del vapore e dell'umidità del nostro grissino, così da renderlo più fragrante e gustoso. E i nostri grissini sono pronti, profumati e caldi. Non ci rimane che assaggiarli. Mettiamo i nostri grissini nel nostro contenitore per preparare il nostro centotavola. Così, così. Beh, i nostri pan grissini sono pronti. Non ci rimane nient'altro che darvi appuntamento alla prossima ricetta nella cucina del Molino Casillo, dove le ricette sono desiderie. Non ci rimane nient'altro che darvi appuntamento alla prossima ricetta nella cucina del nostro corso.